La segnalazione è assolutamente pertinente, ringrazio gli amici di Palermo che hanno voluto mandarci questo video, noi mandateci tutto quello che volete da Palermo, da Trapani, da Grigento, da Caltanissetta, noi siamo a disposizione, come vedete il nostro è un telegiornale dove si parla, non diamo le notizie quelle spicciole, non è un telegiornale di cronaca, ma è un telegiornale di pensiero, noi pensiamo e crediamo di non farlo male questo telegiornale. A Modica, andiamo a Modica con due cose, la prima è quella dell'insediamento del commissario straordinario, in questo caso la signora Domenica Ficano che guiderà il comune fino alle prossime elezioni, penso probabilmente fino a novembre perché le altre elezioni saranno, vedete è il momento della firma, questo è il commissario, è andata nella stanza che è stata per quasi dieci anni di Ignazio Abate che come sapete si è dimesso e sarà candidato alle prossime elezioni regionali. Il comune di Modica anch'esso ha un po' di racina appesa perché dicono le male lingue che alla fine il sindaco di Modica se ne è andato lasciando un po' di problemi, quindi ora il commissario dovrà affrontarli, però dall'altra parte dobbiamo dire che dal punto di vista esteriore, dal punto di vista dell'immagine Ignazio Abate è riuscito a fare un buon lavoro per la sua città e quindi molti cittadini lo amano, lo apprezzano, chiaramente non gli avversari politici e quindi vedremo come uscirà dalle elezioni. E a Modica oggi c'è stata un'azione pesante della Guardia di Finanza che ha disposto la misura cautelare personale per una persona, in pratica ha arrestato questa persona con questo prezzo che si chiama Easy Credit. Ora abbiamo tutti detto che con la storia del 110%, del bonus, del sisma, era facile fare ciucchetti, era facile fregarsi i soldi. Ora io non so se è vero, perché sapete io ormai con l'esperienza quasi cinquantennale di dieci lustri che faccio questo lavoro, so che le persone sono colpevoli solo dopo che appunto fanno primo, secondo e terzo grado nel caso. Perché abbiamo visto tante cose che in primo grado sono in un modo, in secondo vengono ribaltate, in un modo o nell'altro. Allora cosa è successo? Praticamente questo signore con il sistema dei crediti fiscali inesistenti era riuscito a fare un bel profitto pare più di 3 milioni e mezzo. La società risultava praticamente una vera cartiera, ha acquistato i crediti di rimposta fittizi per lavori di edilizia, per il rischio sismico, che poi lavori e che in verità probabilmente non sono mai stati nella disponibilità di questa società, li acquistava, li faceva girare e alla fine dando magari meno a quelli da cui acquistavano il credo, poi aspettava che la banca o lo Stato gli desse i soldi e c'era un utile abbastanza forte. I bonus si sostanziavano nel riconoscimento di una detrazione di importo variabile a secondo della tipologia. Abbiamo queste interviste, sentiamo.